L'artista e artigiano Franco Baranello ha voluto rappresentare il sepolcro inserendo nel contesto della veglia sacra le figure simbolo della cristianità, un dono importante per la sua gente. Franco Baranello, un sepolcro un po' particolare, i 12 apostoli, lo spondo la chiesa di Sant'Antonio Abbate. Sì, quest'anno come tutti gli altri anni, ormai sono circa 20 anni, è mia consuetudine allestire una vetrina particolare ispirata proprio alle tradizioni campobassane di questo periodo. Quest'anno sì, abbiamo voluto riproporre un po' l'altare di Sant'Antonio Abbate con la visita che gli apostoli da diversi secoli fanno nelle nostre chiese. Ecco, ma quanto è sentita ancora questa tradizione? Eh beh, ormai è radicata proprio nell'animo della gente, anche se purtroppo nel corso degli anni le cose cambiano, però c'è sempre la voglia di uscire il giovedì per visitare le chiese, per fare la preghiera davanti a questi altari della deposizione. E con grande piacere anche la mia vetrina sta diventando un po' una meta così secondaria. Ecco, ne parlavamo prima, una piccola chicca, l'anno in duro il coro del venerdì santo. Eh sì, c'è questa idea. L'anno scorso, due anni fa ho riproposto lo Zug d'Azù, il settenario dell'Addolorata in miniatura, quindi nella chiesa di Santa Maria. Un'altra bella opera fu quella proprio della processione e un pensiero anche al coro, quindi se Dio vuole negli anni futuri vedremo di riprodurre in miniatura, perché 700 elementi ci vorrebbe tutto questo locale. Comunque è un'idea, è un'anteprima. Quanto tempo ci vuole per realizzare un'opera simile? Beh, questa è una domanda che fanno tutti quando vengono in queste botteghe. Purtroppo non ci sono tempi specifici. Dipende prima di tutto dallo stato d'animo di noi che eseguiamo le opere. E poi ci vogliono mesi e mesi di lavoro. E poi ci vogliono mesi e mesi di lavoro.